Si chiama Filgotinib ed è un farmaco su cui si basa una nuova terapia per la cura della colite ulcerosa, una malattia che colpisce in Italia circa 150.000 persone in prevalenza giovani adulti nella fascia tra i 15 e i 30 anni. Un numero destinato a crescere nei prossimi 15 anni secondo le proiezioni fino a 300.000 casi. La buona notizia per chi soffre di questa malattia infiammatoria cronica dell'intestino è che il Filgotinib è stato da poco provato e rimborsato dall'AIFA si tratta secondo gli specialisti di un'alternativa terapeutica rapida, efficace e ben tollerata alle cure convenzionali e che promette di migliorare la qualità della vita del paziente grazie alla somministrazione in un'unica dose giornaliera per via orale. Flavio Caprioli, segretario generale dell'Italian Group for the Study of Inflammatory Bowel Disease e professore associato di gastroenterologia all'Università degli Studi di Milano. C'è una quota di pazienti che è stimata di circa il 25% o 30% di pazienti che non risponde a nessuna linea terapeutica e deve ricorrere all'intervento chirurgico per il controllo definitivo dei sintomi. Fortunatamente la ricerca sta procedendo, questi nuovi farmaci fra cui i Giac inibitori permettono di colmare almeno in parte il gap terapeutico che le terapie attuali non consentono di controllare. Quali sono i vantaggi per il paziente nell'uso di farmaci Giac inibitori? Ne parla Jonathan Fiorino, ricercatore clinico e gastroenterologo all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Giac inibitori sono una nuova classe di farmaci che bloccano delle proteine che si chiamano appunto Januschinasi che amplificano la cascata infiammatoria quindi bloccando queste proteine riescono a bloccare l'infiammazione a più livelli. I vantaggi sono tanti, sono farmaci rapidi, sono farmaci che si possono dare per via orale, sono farmaci ben tollerati che garantiscono un'efficacia sia nel breve sia nel lungo termine senza l'utilizzo di cortisone. In particolare il filgotini viene dato in monosomministrazione quindi significa una sola pillola al giorno che è molto diciamo molto meglio rispetto magari a farmaci in dovena o sotto cute. La colita ulcerosa è una malattia seria, invalidante e debilitante e con un notevole impatto sulla qualità della vita delle persone, con un effetto potenzialmente devastante sulle relazioni sociali. Il filgotinib è la nuova alternativa per chi non ha avuto una risposta adeguata, non ha avuto risposta o è risultato intollerante alla terapia convenzionale o a un farmaco biologico.